Verona Pescara lunedì ore 21, sfida molto attesa dalla tifoseria Biancazzura e qui abbiamo uno dei protagonisti di quella doppia finale del 2010 ma anche successivamente con Zeman. Insomma, quanti ricordi Andrea? Tanti, tanti, tanti bei ricordi perché quella partita del 2010 segnò un po' lo spartiacque tra il Pescara che fu e il Pescara attuale. Io credo, ricordo con molto piacere sempre quelle immagini. Te l'hanno anche postato nel tuo profilo. Sì, sì, è vero, l'ho ricondivisa perché è veramente un'emozione rivederle. Tra l'altro ricordando il 2-1 di Sanzovini, azione splendida, strepitosa, iniziata proprio da te, sovrapposizione di Zanon e colpo di testa vincente di Marco. Sì, sì, è stata veramente un'azione che si prova nell'11 contro 0 e venne proprio benissimo. È stata una cavalcata stupenda, tutt'altro che semplice perché quando si è obbligato a vincere non è mai semplice e credo che comunque sia i tifosi se lo ricordino proprio per questo. Anche perché questo è un campo tradizionalmente ostico per i colori bianchi-azzuri però ci sono questi ricordi che ci fanno sorridere. Come sta la squadra Andrea? Sta molto bene, abbiamo lavorato molto bene in settimana, settimana lunga, abbiamo anche cercato di portare la squadra in trasferdo, siamo stati a Silvi. Campo perfetto. Sì, 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 è un nuovo impianto molto bello e abbiamo cercato di trovare la giusta concentrazione per poter arrivare a Verona con tutte le cose a posto. Quanto daresti per essere in campo? Ma un dito ci penserei, sì, sì, assolutamente. È dura stare fuori però insomma al Bentegodi ci vogliono gli attributi e erano le mie partite, quelle mi piacevano.